Settimana più settimana meno è tra settembre e ottobre che la giunta presieduta da Stefano si riunirà per decidere sull'incandidabilità di Berlusconi, ma mai decisione è sembrata così carica di complicazioni, di incertezze. Tanto da lasciare aperta la possibilità che a quella scadenza non ci si arrivi nemmeno qualora Berlusconi dovesse dimettersi prima. O anche che tutto venga rimesso in discussione da nuove elezioni anticipate, sulle cui conseguenze i pareri sono, tanto per cambiare, discordi tra chi sostiene che Berlusconi in questo caso potrebbe ricandidarsi e chi invece no a causa di un decreto, quello Monti-Severino, su cui effetti, perfino sulla cui validità, ognuno sembra pensarla a modo suo. Perché se Stefano sostiene che l'incandidabilità è certa comunque, elezioni anticipate o no, il presidente della Commissione Giustizia, Nitto Palma, guarda alla strada che porta alla Corte d'Appello, fermarestando la possibilità del ricorso al TAR. Mentre Calderoli parla di legge incompleta e di fatto inapplicabile, come tutte quelle, dice lui, del governo Monti. È probabilmente per mettere un freno a lievitare di questa massa pericolosa di congetture, avvertimenti, veti, preventivi, che il presidente napolitano avrebbe deciso di mettere qualche puntino sulle I. Nel senso, fornire alcune valutazioni, che poi di fatto sarebbero le prime, fare il punto sulla situazione, separare ciò che si può fare da ciò che non si può fare, per gombrare almeno il campo da soluzioni giudicate per una ragione o per un'altra impraticabili, tra cui la grazia potrebbe essere la prima della lista. Perché qui è come con il classico canyon dei film western, un canyon del quale si deve per forza di cose passare, con due schieramenti PD e PDL che, per quanto parlino di politica e giustizia come di strade parallele e indipendenti, non sono mai parsi così vicino al corpo a corpo, colletta nelle difficili e disagiate vesti di mediatore. Il PD fermo per ora sul punto della legalità prima di tutto, il PDL su quello della agibilità da assicurare in qualche modo a Berlusconi, in un percorso gravato da nuove possibili sentenze di condanna a rendere il tutto ancora più difficile. Molto dipenderà, par di capire, dall'atteggiamento del PDL, da quanto conciliante esso sarà, da quanto saprà intonarsi, diciamo così, alle possibilità che Napolitano lascerà aperte, con i cosiddetti falchi che stavolta potrebbero rimanere, per così dire, a bordo campo. Non per nulla l'incontro di cui più si parla è già quello tra il Presidente della Repubblica e il più diplomatico dei generali di Berlusconi, Gianni Letta. Grazie a tutti.